Partite anche questa fine, ma si si è 988 Prima munizione Casa dei Matteo Maniera Filippo Pasolo Ieri Rodriguez Guerrero Mierini Michele Giolo Gianluca Suona intanto la piappana Penea che si muove Mezzolano E io Gregato Andrea Ognini Giuliani Ieri Sareghi Vassero E poi Sareghi In Stecchia Gli Pepi In Gana e ci sarà la prima doppia minuzione al passaggio che purtroppo è arrivata per la punta 212 e 94 fermarsi la 31 e 94 deve fermarsi campana di meno 46 a sceliminazione 5 eliminato 397 397 eliminato ammonito la preta numero 300 da 200 adesso ammonito la preta numero 203 inizio il passaggio il mino 43 in corso 162 162 eliminato fermarsi 162 fermarsi 162 fermarsi 162 fermarsi di campana ci sarà la minuzione su un po' il passaggio 617 ammonito 717 717 298 eliminato 298 eliminato su un passaggio su un passaggio su un passaggio 299 431 eliminato 431 eliminato 617 617 il passaggio 617 517 617 517 617 617 617 617 617 717 617 817 429 è eliminato. Ammolito la terza numero 270. Ammolito la terza 365. E' eliminato il passaggio. 160 è eliminato. 160 è eliminato. Ammolito la terza numero 300. 160 è eliminato. Perché è il passaggio. Ancora parte la terza numero 33. E' il passaggio. E' il passaggio. Ancora parte la terza numero 33. Ancora parte la terza numero 33. Ancora parte la terza numero 33. eliminazione al passaggio di 1.31 e si è fermato anche da 270 passate quindi è stato benvenuto a questo giro e sarà benvenuto al prossimo giro all'eliminazione del 1.29 e la 2.315 e la 2.315 è eliminato a 50 l'eliminazione del 1.27 è un passaggio l'eliminazione del 1.300 dovessi tornare seconda ammunizione per l'atleta numero 365 che entra in difida siamo all'eliminazione di meno 25 siamo a metà gara eliminato a passaggio precedente il 1.69 è un passaggio precedente siamo all'eliminazione del 1.23 si è fermato eliminato a 5.617 c'è la eliminazione del 1.021 è un passaggio 424 424 eliminato suona la campana del 1.20 sicuresti eliminato 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 campana 18 ammonito numero 8 Sanno, eliminazione, meno 17 52, eliminato Atleta numero 52 per Massi Campana di meno 16 Siamo, eliminazione, meno 15 Campana di meno 14 Siamo, eliminazione, meno 13 Siamo, traguardo volante Siamo, eliminazione, meno 12 Siamo, traguardo volante Siamo, eliminazione, meno 11 Siamo, eliminazione, meno 15 , traguardo volante Siamo, eliminazione, meno 4 Non mi conviene, cioè, ribadiamo Il figlio, ok, che non hai fatto, c'è il passino, è vero. Il figlio, non hai fatto, c'è il passino, è vero. Il figlio, non hai fatto, c'è il passino. All'idea e femmine all'appello, all'idea e femmine all'appello. E c'è Luca. 203, eliminato. Quarta parte. Campania di un cè. Fuori, fuori, fuori. Siamo all'inizio di un cè. 5174, eliminato. Siamo alle campania di un meno 4 e da un meno 3 e eliminazione ogni giro. Ci sarà eliminazione ogni giro, non ci faccio un passaggio. Siamo al passaggio di un meno 3. 364, eliminato. 364, eliminato. E adesso sarà il tempo dell'ultimo giro. numero 595. E siamo al preguardo. grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, Senior Maschi.